al via il cartellone del natale da ambra all'arno un calendario fitto di iniziative fino al primo febbraio nei comuni di signa poggio a caiano e carmignano a scandici l'undicesima edizione del libro della vita una delle più amate partecipate rassegne dedicate alla lettura del panorama nazionale presentato il libro gli angeli non cadono di albano ricci cinque storie di persone normali del nostro tempo signa carmignano e poggio a caiano si preparano al natale lo fanno con un programma condiviso di iniziative incontri ed eventi destinato a tutte le fasce d'età presentato dall'ambra all'arno la proposta congiunta dei tre comuni per il natale 2024 un programma di iniziative che accompagnerà idealmente visitatori lungo tutto l'arco natalizio e oltre con eventi mercatini e concerti per il consiglio regionale questo è un periodo bello e vivace perché stiamo presentando tante iniziative sul territorio detto la consigliera segretario dell'ufficio di presidenza federica fratoni devo dire che questo è un periodo per il consiglio regionale molto bello e vivace perché stiamo presentando tante iniziative sul nostro territorio segno di una vivacità crescente di anno in anno alla quale il consiglio regionale vuole corrispondere e lo fa con grande piacere in particolare quando come in questo caso gli eventi vengono messi a sistema quindi c'è una proposta più ricca in luoghi straordinari stiamo parlando di tre comuni medicei con un calendario molto ricco sia per le famiglie per gli abitanti di quelle zone sia per i visitatori che ovviamente attratti dalle bellezze dei luoghi potranno anche viverli in un periodo particolare quindi rappresentanza dell'ufficio di presidenza ovviamente siamo molto felici di ospitare questa conferenza stampa e le altre che verranno a dimostrazione di una toscana davvero viva vivace e accogliente in un periodo straordinario per le nostre comunità sono orgoglioso e soddisfatto di poter accogliere questi comuni per valorizzare la proposta degli eventi natalizi che hanno messo in campo ha dichiarato il consigliere regionale fausto merlotti sono davvero soddisfatto e felice di poter accogliere qui il comune di signa con il suo sindaco giampiero fossi e i comuni di poggia caiano e carmignano per presentare gli eventi che caratterizzeranno il periodo natalizio in questi tre comuni siamo in riva destra d'arno e apprezzo davvero moltissimo la forza la voglia la capacità delle amministrazioni di fare squadra di fare sistema è un'offerta quella che presenteranno ai propri concittadini e non solo i tre comuni appunto interessati che spazierà dall'arte alla cultura all'enogastronomico alla possibilità da parte delle associazioni culturali sociali le proloco di poter offrire comunque una opportunità in più alle persone approfittando del periodo natalizio ma non è solamente il periodo natalizio perché queste manifestazioni queste iniziative si protelleranno anche nei mesi di gennaio e febbraio questo dimostra la vivacità che i territori hanno nel proporre ai propri concittadini delle opportunità e di approfittare delle occasioni delle festività natalizie per consentire alle persone di uscire stare insieme di fare socialità questa è la toscana che a me piace questi sono i territori comuni che a me piace valorizzare ecco perché oggi questa conferenza stampa qui in consiglio regionale e ringrazio chiaramente presidente mazzello tutto l'ufficio di presidenza per la collaborazione nella realizzazione di questo momento insieme e adesso le parole di giampiero fossi sindaco del comune di signa un natale importante un natale che vede anche quest'anno la collaborazione fra più comuni signa carminiano poggia caiano si trovano a condividere un progetto bello importante in cui tante iniziative di tipo culturale di tipo ricreativo ma anche con un'impostazione sociale vanno a unirsi per creare un territorio abbastanza vasto a cavallo fra le province di prato e di firenze un insieme di occasioni con questa iniziativa con questa nostra unione con questa nostra attenzione al lavoro comune noi possiamo dire tranquillamente che dalla 20 di novembre sino al primo di febbraio a venire nella nostra zona si trova sempre un qualcosa un qualcosa e sicuramente può essere abbastanza forte si trovano mercati di ogni tipo tra questi il nostro mercatino di overdraubo che è legato alle città gemellate assume una caratteristica importante ma anche quanto fatto nella fiera di carminiano degli interventi di poggio va a seguire interventi di sicuro interesse non vogliamo certo riproporre mercati nel lato adige ma in qualche modo anche nella nostra zona che fa parte tutta del monte albano si va a assumere il livello di insieme di iniziative importanti utili che possono lasciare un buon messaggio a chi avrà l'occasione di poter frequentare visitare sentiamo il commento di piero baroncelli assessore al turismo di poggio a caiano poggio a caiano veramente quest'anno ma abbiamo fatto un'operazione insieme a carminiano con lo spostamento del pontormo la visitazione e per noi è stato un impegno veramente importante che vogliamo portare avanti e questo nell'ambito delle feste natalizie sarà propagandato come come iniziativa e poi noi dobbiamo ringraziare veramente il sindaco fossi e il sindaco di arminiano perché noi come giovane amministrazione siamo stati chiamati a collaborare con loro anche con giacchette diverse però veramente siamo stati a disposizione per lavorare per il nostro territorio per farsi offrire veramente un programma che possa andare dai ragazzi alla cultura tutto come è stato detto anche precedentemente e dare un bel servizio ai cittadini a tutti i nostri vicinanti infine le parole di dario di giacomo assessore al turismo di carminiano per noi l'arrivo del natale rappresenta l'amicizia l'amicizia fra amministrazioni comunali in questo caso due amministrazioni della provincia di prato e una della provincia di firenze un'unione fra comuni che hanno saputo realizzare un calendario delle iniziative fatte e organizzate da tutte le associazioni del nostro territorio invito perciò tutti i nostri concittadini a seguirci sui social per capire quali saranno le iniziative più vicine a loro la rassegna il libro della vita a scandici arrivata la sua undicesima edizione presenta quest'anno dieci interessanti appuntamenti a ingresso libero ospiti provenienti dal mondo della letteratura della politica della cultura della scienza racconteranno il proprio libro della vita il libro che gli ha segnati rapiti e che ha segnato in qualche modo le loro vite si tratta di un progetto del comune di scandici che si inserisce nell'ambito del patto regionale per la lettura della regione toscana con il patrocinio della regione toscana e della città metropolitana realizzato con il contributo di unicop firenze sentite sincere e a limite della commozione le parole della sindaca di scandici claudia sereni nel parlare di questa edizione della rassegna partiamo oggi con la presentazione di questa undicesima edizione che però è anche la prima che io inauguro da sindaca quindi mi piace pensare che sia l'inizio dei secondi dieci anni che questo progetto che ha dato veramente tanto al territorio si appresta a ripartire e ripartire con un evento speciale noi abbiamo la fortuna scandici di aver avuto questo personaggio nostro concittadino e sindaco onorario della nostra città che è sergio staino ripartiamo con un evento tutto dedicato a lui e in virtù del fatto che il club tenko ha pubblicato recentemente un numero della loro rivista storica dedicandola interamente a sergio staino il canta staino sarà l'occasione con dei grandi amici come cooper lo paolo endel e sergio sacchi sarà l'occasione di ripercorrere questa la storia di di staino come uomo come artista nel suo essere eclettico non percepire confini tra i vari linguaggi dalla vignetta al libro alla televisione al cinema domenica avremo modo di tracciare le linee a tutto tondo di questa grande personalità che ha dimostrato che l'umanità la generosità con la quale lui si è prestato al mondo della cultura è l'elemento vincente e insieme a questo anche come il territorio e la politica insieme hanno beneficiato veramente di un uomo che ha sempre messo davanti l'unità e la collaborazione come elementi vincenti contro invece una tendenza a disgregare e a disunire come spesso purtroppo la contemporaneità ci ha dimostrato questa è una manifestazione caratterizzata da alcune cose che la rendono molto originale ha detto il curatore raffaele palumbo il libro della vita caratterizzato da alcune cose che lo rendono abbastanza originale cioè prima di tutto la gratuità nessuno viene a vendere niente c'è un oratore un'oratrice che proviene dai mondi più diversi dalla scienza dalla letteratura per parlare non di un proprio libro ma del libro di un altro cioè far innamorare l'uditorio attraverso una fabulazione coinvolgente del libro che un po gli ha cambiato la vita naturalmente un gioco non c'è un solo libro che ti cambia la vita o che ti comunque fornisce alla vita degli attrezzi importanti però è un gioco per far innamorare l'uditorio di un libro che tu non stai vendendo perché non è il tuo libro e questo percorso fatto in questi dieci anni è una cosa che è stata apprezzata proprio per questo perché insieme a questo forte spirito di gratuità c'è sempre stata la volontà e il desiderio di lavorare su una divulgazione alta per cui abbiamo sempre avuto un pubblico estremamente eterogeneo proveniente da tutta la città metropolitana nelle volte anche da altre regioni con mestieri e professioni di provenienza le più diverse per tenere insieme in maniera democratica una comunità intorno a questo tema della lettura del libro della gratuità della cultura come collante per lo stare insieme e adesso il commento da parte della consigliera regionale federica fratoni sì siamo molto fieri di questa presentazione in consiglio regionale di una rassegna che ormai giunta all'undicesima edizione quindi ha raggiunto anche una sua solidità nel tempo e anche un apprezzamento crescente da quello che vedo devo dire che questa rassegna si colloca perfettamente in quelli che sono i filoni fondamentali promossi dalla regione toscana dal consiglio regionale che ha messo in molte iniziative per promuovere la lettura e sostenerla non ultima la nostra partecipazione al salone del libro di torino quindi davvero accogliere questa manifestazione per noi motivo di grande orgoglio in più per la dedica speciale fatta a un grande intellettuale del nostro tempo come sergio steino che certamente in quanto a carisma intelligenza umanità sensibilità è stato un grande dono per la nostra regione quindi celebrarlo a un anno dalla scomparsa è sicuramente un motivo di commozione ma anche di felicità nel ricordarlo perché abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di viverlo quindi mi auguro che ovviamente sia una rassegna molto frequentata già lo è un appuntamento fisso della domenica mattina e quindi io credo davvero fra l'altro in un luogo straordinario come il centro rogers che è oggetto è stato oggetto di una bellissima riqualificazione urbana quindi ci sono tutti gli elementi per un'edizione di successo e quindi un grande bocca al lupo infine le parole della consigliere regionale fausto merlotti sono davvero contento felice di poter essere qui in consiglio regionale media center davide sassoli per questa conferenza stampa che presenta l'undicesima edizione del libro della vita è un'edizione particolare questa perché è l'apertura ai primi 20 anni quindi dall'undicesimo fino arrivare oltre ma soprattutto è ricordo appunto un grande intellettuale una grande personalità del novecento che è sergio staino è una persona sergio staino è stata una persona che ha voluto dire tanto per questa manifestazione lui usava definirla come la messa laica della letteratura e effettivamente questo è stato ma sono anche soddisfatto e contento di poter essere oggi qui insieme alla sindaca claudio sereni perché devo riconoscergli che in parte forse una parte molto importante di questa iniziativa è anche merito suo perché lei l'ha vista veramente nascere crescere e svilupparsi il libro della vita è magistramente condotto diretto da raffaele palumbo che come dire oltre a presentare gli ospiti interloquisce con loro e come dire coinvolge il pubblico che è un pubblico davvero ampio vario e che viene non solamente da scandice o da firenze ma dall'intera città metropolitana io più volte ho trovato amici conoscenti persone da calenzano da campi visenti da bagnarripoli è la testimonianza di una manifestazione che negli anni si è conquistata un consenso vero ampio diffuso e che sicuramente grazie anche appunto a Sergio Staino ha coinvolto scrittori artisti intellettuali che anno dopo anno hanno contribuito a far crescere questa manifestazione quella di quest'anno l'undicesima edizione è un'edizione molto importante che vedrà la presenza di artisti intellettuali scrittori rilevanti sul panorama nazionale e internazionale e quindi sono certo e sicuro che anche quest'anno sarà un grande successo nella come dire offerta che questi daranno del proprio libro della vita ma soprattutto anche nella presenza che sarà io penso davvero copiosa dei cittadini e delle cittadine quindi come dire in bocca al lupo a questa undicesima edizione ma soprattutto l'importanza che anche dal consiglio regionale si dia lustro a una manifestazione che negli anni si è conquistata sul campo 5 storie di persone normali del nostro tempo questo propone gli angeli non cadono di Albano Ricci edito da Bertoni presentato nella sala conferenze di Expo Comuni del consiglio regionale le storie in esso racchiuse arrivano da un tempo lontano sono cinque storie ognuna molto diversa sono felice di accogliere il consiglio regionale lo scrittore e amico Albano Ricci ha detto il vicepresidente dell'assemblea legislativa Marco Casucci Sono veramente felice di accogliere qui lo scrittore amico Albano Ricci gli angeli non cadono ho avuto il modo di conoscere e di leggere il libro di Albano e lo ritengo un libro che ci invita un po' alla curiosità alla riflessione su tanti aspetti diversi della nostra vita sempre più complessa, sempre più frenetica ma ha un leitmotiv veramente che ci fa anche spiegare un po' il senso di quello che fa Albano Ricci gli angeli non cadono e quindi dobbiamo avere un messaggio di speranza verso il futuro il nostro è un mondo complesso, difficile, questi saranno anche dei racconti, degli amusements però ci invidono veramente alla riflessione e all'accettazione di tante diversità e questo credo che sia un bel risultato che si è prefisso lo scrittore Questo libro, ha detto l'autore Albano Ricci, è un libro di storie, di racconti lunghi e nasce perché da sempre ho la passione di scrivere ma soprattutto di raccontare quello che ci circonda Questo libro è un libro di storie, racconti lunghi nasce perché ho da sempre la passione di scrivere ma soprattutto di raccontare quello che mi circonda quello che ci circonda, la storia dei veri eroi che sono le persone comuni, la gente comune e quindi nasce come una necessità ho aspettato molti anni a pubblicare questo libro per discrezione perché ritengo che la pubblicazione di un libro sia un atto importante e quindi ha i suoi riti e i suoi tempi e quindi nasce perché queste storie sono scappate via e ho cercato di dare stile al caos, come diceva Pierpaolo Pasolini Cosa si nasconde dietro questo titolo, Gli Angeli Non Cadono? Gli Angeli Non Cadono è il titolo della poesia che fa da, diciamo così, da overture al libro è una storia molto bella ma anche molto triste perché avevo vent'anni mia madre mi chiese di scrivere, dato che io scrivevo poesie mia madre era una persona molto pratica mi disse ma puoi scrivere una poesia per una mia amica che non c'è più e allora ho scritto Gli Angeli Non Cadono anzi se cadono imparano a volare Gli Angeli Non Cadono Gli Angeli Non Cadono